Salusa 11 agosto 2010. Molti di voi stanno aprendo i loro centri psichici ed iniziano a percepire o sperimentare eventi, che appartengono al futuro. Questo è abbastanza normale perché, con un livello di coscienza più elevato, può essere dato d'intravedere il futuro oltre il periodo immediatamente dopo l'ascensione. Questo avviene per lo stesso motivo, che rende possibile viaggiare nel tempo, poiché ogni cosa esiste nel presente. Pur servendovi da conferma di quanto avete appreso, questa esperienza può generare anche una certa confusione, non essendo possibile inserirla in un determinato periodo di tempo. Col passar del tempo, la frequenza di tali esperienze crescerà, insieme allo sviluppo di percezioni extrasensoriali e facoltà telepatiche. Tutto ciò fa parte del ridiventare un essere di dimensione superiore, e quindi potrete gestire tali sviluppi senza alcuna difficoltà. Non vi abbiamo forse detto in molte occasioni, che siete degli esseri di gran lunga più grandi di quanto credete? Non ne siete a conoscenza perché, eoni di tempo fa, vi siete lasciati cadere nelle dimensioni inferiori, in cui non eravate in grado di manifestare i vostri pieni poteri. Inoltre, c'è stato un tempo in cui il vostro DNA fu alterato in modo da ridurvi, praticamente, in un essere subumano. In seguito, avete scalato la strada di ritorno ai livelli attuali e presto spiccherete un gran balzo, che vi consentirà di reclamare le perdute capacità. Questo sarà coronato dalla piena trasformazione in essere galattico, ed accadrà tra non molto. Nel subconscio sapete bene che tutto ciò è vero e non vi sembrerà affatto strano diventare un essere dotato di supercoscienza. L'ascensione è l'evento unico, che vi fornirà l'occasione di elevarvi tanto rapidamente. Passerà molto tempo prima che un'altra occasione di tanta rilevanza vi si presenti. Di conseguenza, ci sono molti lavoratori di luce, terrestri ed extraterrestri, ora qui presenti per offrire ad ogni anima la possibilità di ascendere. La conoscenza vi aprirà le porte, ma i progressi dipendono dalla crescita della vostra coscienza. Questo avviene ammettendo che siete tutti uno, ed essere in grado di trattare ogni altra anima come vorreste che foste trattati voi stessi. Non c'è bisogno di appartenere ad un gruppo specifico, sebbene gli esseri umani ammino raggrupparsi in nome d'affinità comuni. Tutto quello che dovete fare è un lavoro interiore, che spesso è molto semplice e senza ulteriori complicazioni. Amate gli altri come amate voi stessi e, se potete superare questa prova, i vostri piedi avranno già un solido appiglio nel sentiero dell'ascensione. Questo significa cambiare il vostro modo di essere, dopo anni vissuti con la vecchia mentalità, significa anche uscire dall'involucro in cui i genitori e l'educazione ricevuta vi avevano rinchiuso, e diventare un uomo nuovo. I vostri compiti sono agevolati dall'aiuto continuo, che vi è dato, pur essendo in gran parte invisibile. I lavoratori di luce svolgono la loro importante opera sulla Terra e questo contribuisce ad aprire la vostra coscienza ad altri orizzonti. Una volta annunziata l'intenzione di intraprendere la via dell'ascensione, scoprirete che le vostre esperienze vi indirizzeranno verso persone o informazioni, che vi porteranno nella giusta direzione. Aggiungiamo che, se siete attirati da messaggi, quali i nostri, senza alcun dubbio siete già sul sentiero della libertà e di una grande presa di coscienza. Inoltre, potete esser certi di raggiungere il vostro obiettivo di ascendere e di aver già elevato il vostro grado di consapevolezza. A lungo termine, la vita consiste nell'accrescere la propria consapevolezza, ed ogni esistenza è programmata in funzione di tale obiettivo. Saperlo, vi mette in grado di trovare le risposte alle numerose sfide che dovete affrontare, spesso chiedendovene il perché. Molte di esse si riferiscono a esistenze precedenti e ad opportunità eventualmente mancate, che ora si ripresentano per offrirvi un'altra occasione di riuscita. Guardando indietro alle esperienze dell'esistenza presente, forse potete rendervi conto, che un evento ritenuto spiacevole, ha poi cambiato qualcosa nella vostra vita, rivelandosi un punto di svolta per il vostro equilibrio e facendovi imboccare il sentiero giusto. In questo caso, noi diciamo che qualcuno si era allontanato dal percorso scelto prima di incarnarsi. L'attenzione data ad ogni singolo progetto di vita è molto maggiore di forse quanto possiate immaginare, e chi è incaricato della sua esecuzione vi accompagna per tutta la vita. Ci riferiamo alle vostre guide e agli esseri superiori, la cui presenza avete forse invocato. Ci saranno sempre persone pronte a negare la presenza attorno a loro di esseri spirituali, ma che ci si creda o meno, tale presenza ci sarà sempre. Quello che non faranno mai è di interferire con il vostro libero arbitrio, né di imporvi la loro volontà. Se, per esempio, era previsto che saresti arrivati fino alla vecchiaia, ove possibile, impediranno una morte accidentale. Vale a dire, anziché permettere il decesso in un incidente, vi salveranno la vita in circostanze, che saranno credute miracolose. I vostri angeli custodi possono fare ciò che voi credereste quasi impossibile, e molte vite sono state da loro salvate. Non sono legati al tempo lineare e possono muoversi nel futuro o nel passato, per modificare le vostre esperienze. Le vostre esistenze sono ben lontane da poter essere definite semplici o banali, perché non importa se si tratta di una vita molto movimentata o una più quieta, ognuna ha dei momenti essenziali, molto importanti per gli interessati. Sappiamo che ci sono tante coincidenze, che provocano l'incontro di due persone, destinate ad incrociarsi perché il loro progetto di vita lo prevedeva. Adesso, l'attenzione di cui siete oggetto è ancor più continua, perché chi si sta risvegliando ha bisogno di ogni aiuto per continuare a crescere. In qualunque situazione vi trovate, abbiate fede sapendo che tutto quello che state ora passando non durerà a lungo. Un futuro meraviglioso vi attende e noi della Federazione Galattica facciamo parte di una grande assemblea di esseri, venuti fin qui per garantire la vostra vittoria. Non appena potremo iniziare apertamente, vi accorgerete presto che i problemi immediati saranno risolti molto rapidamente. C'è moltissimo da fare per correggere le ingiustizie, prolungatesi per lunghissimo tempo. Io sono il Siriano Salusa e ci riscalda il cuore vedere la vostra incessante risposta alla luce, che non dà la Terra. I livelli di coscienza si elevano di continuo e niente impedirà loro di raggiungere i livelli più alti, tutto ciò è meraviglioso. Considerata la pressione esercitata ovunque attorno a voi, riuscite a mantenervi fermi nel proposito di focalizzarvi sui cambiamenti positivi, che emergeranno dal caos attuale. Come sempre, il tempo sta accelerando e la nostra presenza è più visibile mentre vi sosteniamo nel lavoro, che state facendo per la luce. Rivolgetevi a noi, se avete bisogno di aiuto. Grazie, Salusa. Mike Quincy, traduzione Costanza 2003